are krishna oggi festeggiamo i tre anni della domus are krishna di velletri questo luogo spiritualizzato dalla presenza dei discorsi su krishna e da quella dei devoti si presenta ora a distanza di anni come un oasi di pace da semplice abitazione ordinaria al rifugio delle più candide virtù questo è il miracolo della domus grazie alla spinta impegnata e concreta della collaborazione dei devoti che si sono in più modi adoperati a questo progetto con donazioni e sforzi congiunti oggi possiamo soffrire di questa misericordia infinita per i devoti la domus ha molti significati domus are krishna un luogo speciale per curarsi dal materialismo la domus per noi è un centro educativo spirituale la domus are krishna è pura energia di krishna ed è il luogo ideale per la sadhu sangha di noi devoti la domus are krishna di velletri per me è essere la rampata domus are krishna un luogo dove la seconda nascita vigia può succedere domus per me è un posto molto molto magico perché mi ha dato l'opportunità di aprire i miei servizi ai gli occhi è esserci di testa cilandana grazie di esistere domus con l'augurio di festeggiare la domus per i secoli a venire ci impegniamo tutti quanti nel mantenere questo sacro standard di pace soprattutto adottando e abbandonando sempre più libri di scivilla preoccupata per la liberazione delle anime cadute